Niente, è una partita delicata, quindi molto importante, il mister cerca la massima concentrazione per affrontare questa gara, niente di più. Dobbiamo cercare di essere un po' più concreti quando andiamo in vantaggio, probabilmente quando dobbiamo chiudere le partite. Adesso dobbiamo cercare di riacquistare questi punti importanti che per noi fanno la differenza, e riacquistare questi 10 punti e poi non avere più il braccino corto ma cercare di mantenerli e cercare di rosicchiare qualche punto a chi sta davanti a noi. Ma in alcune occasioni probabilmente è mancata quella convinzione che abbiamo avuto a Bari e poi in partita diversa dall'altra. Di sicuro abbiamo stati bravi, è un pizzico di fortuna in alcune situazioni a Bari e poi stati veramente molto bravi a chiudere sul 2-0 anche se nel finale di gara. Abbiamo avuto alcune occasioni dove dovevamo sicuramente chiuderla prima, come è successo in altre gare, però direi che la squadra ha sofferto fino alla fine in un campo difficile contro una squadra che era l'ultima spiaggia, probabilmente doveva assolutamente fare risultato e quindi valeva le doppie questa vittoria. Come è già successo, noi dobbiamo solo pensare a fare questa partita bene e incontrarla prima o dopo. Noi sappiamo che dobbiamo assolutamente vincere per poter così riavvicinarci ancora a Livorno e staccare quelli che ci inseguono. È un momento importante, non il più importante perché ancora mancano parecchie partite e quindi c'è la possibilità per chiunque che sta in alto o appena dietro di poter recuperare o perdere punti. Quindi è importante perché dopo queste due vittorie di fila dà ancora più morale alla squadra e così ci avviciniamo appunto al traguardo che per noi è molto importante. Vedremo. O giochiamo in 12 o se no Martigno come tutti gli altri giocatori che sono stati chiamati in causa ha fatto bene, ha fatto bene a Bari dove diciamo che così ha cambiato lui il risultato diciamo. Però logicamente Martigno come tanti altri è difficile giocare da soli. Quindi è una squadra che gioca. In queste occasioni tipo Bari ha giocato lui che mancava Alferson in quel ruolo. Quindi adesso vedremo quale sarà la formazione di domani. però è la squadra che vince con le qualità dei giocatori. Daniele sta molto bene e carico perché davvero vuole far vedere che vuole tornare al gol e quindi in questo momento sta veramente molto bene. Vincendo come dicevo prima di sicuro ci portiamo più dieci da chi ci insegue. Qualche punticino se vince Lorozicchia al Sassuolo che appunto come dicevi te è tornato sulla terra perché ha perso una partita importante in casa contro il Grossetto che dall'altro incontreremo noi fra due partite che è una squadra molto brava nei singoli. Quindi di sicuro vincere questa gara per noi è molto importante proprio per noi come squadra. e poi logicamente ci porterebbe a più dieci che è un buon risultato. Ma allora di sicuro non abbiamo una squadra, qualche singolo che possa cambiare la squadra. Faria, Scutolo, quindi dovremmo stare attenti a tutti quanti. È sicuramente un derli per oggi che abbiamo in casa. Quindi noi vogliamo sfruttare al massimo quello che è l'ambiente casalingo nostro del Bentegodi e quindi sfruttare al massimo il tifo dei nostri tifosi e cercare di vincere questa partita.